a recuperare qualcosa di test di forza cioè a dire panca, nifo e berriman squat, De Gregori, Saccardo, Ruffolo, Tempestini, Veziosi, Pozzi sotto panca Damiani, Ruffolo, Tempestini, Veziosi, Berriman, nifo poi stamattina cannone della rata per i lizzari del nevo non hanno fatto la via è scritto grosso così la via quindi domattina la prima cosa che fate è la via va bene?